Sì, pronto? Ciao, ciao, sì, 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 ho iniziato la barfa. La prendo lì al negozio di animali? Sì, quelle scatolette che c'è scritto barfa. Ah, boh, non so, come fa a esserci a carmi cruda le mie scatolette? Ah, ma perché la devo dare cruda? Ma gli fa venire i vermi. Sì, sì, no, sì, lo so che dicono che bisogna dargli anche le ossa, ma io non ce la posso fare, cioè, non lo so, secondo me sono dei matti, cioè, lo sanno tutti che non si devono dare le ossa agli animali. La dieta barfa è composta solo da alimenti crudi, poiché la cottura denatura i nutrienti presenti nella carne. Non a caso nel pet food abbiamo i famosi additivi. La dieta barfa, per poter essere una dieta completa, prende ad esempio le percentuali delle sostanze nutritive presenti nella preda d'eccellenza del gatto, cioè il topo. Quindi, se vorremmo preparare una dieta barfa equilibrata, in tutti i pasti dovranno essere presenti tutte le parti dell'animale con il quale vogliamo nutrire il nostro gatto. Osse polpose, organi, interiora, di vario tipo, la pelle, le piume, la pelliccia, che quest'ultime possono essere sostituite poi dalla verdura, comunque non potranno mancare. Non possiamo fare come ci pare piace, poiché la barfa ha delle regole ben precise per garantire l'apporto di tutti i nutrienti necessari alla salute del gatto. Ma al di là di tutte queste spiegazioni, se voi non voleste o non poteste dare ossa o d'altro previsto nelle regole della dieta barfa, mi raccomando, dovrete rivolgervi ad un nutrizionista che crei per voi, per le vostre esigenze, una dieta su misura. Mi raccomando, vi vedo!